Benvenuti amici di ExtremeHardware.com, oggi ho qui con me le Q-Pad QH700 Un headset della Q-Pad che promette di suonare molto bene Come possiamo vedere sono indicate come compatibili con le console di nuova generazione Ma bando alle ciance e andiamo a vederle più nel dettaglio La confezione proposta da Q-Pad ci ha soddisfatto La scatola esterna è in cartone plastificato Ma una volta aperta ci si imbatte in uno scomparto a scorrimento solido Con le cuffie circondate da spugna sagomata La volontà di porsi sul mercato come premium product è forte Ed è perfettamente rispecchiata dalla cura nel packaging Con la totale assenza di plastiche trasparenti In favore della spugna in superficie ed un cofanetto in cartone brandizzato sotto di essa È interessante notare come sulla parte frontale della scatola Venga riportata la dicitura per PS5 Xbox Series X Un chiaro riferimento quindi alla compatibilità con le console di nuova generazione Rilasciate qualche settimana fa In ogni caso è chiara l'intenzione di Q-Pad Di proporre una periferica che guarda al futuro E che possa essere un punto di riferimento per la fascia di prodotti ad alte prestazioni proposta dall'azienda Per quanto riguarda la qualità costruttiva dell'headset Si può notare come i materiali scelti restituiscano un feedback solido e resistente L'alternanza di plastiche lucide e opache contribuisce a creare un design classico che abbia un look moderno L'arco superiore abbandona la plastica in favore dell'acciaio nero su cui troviamo a lato le eleganti tacche di regolazione Ed una copertura superiore estremamente comoda anche dopo un utilizzo prolungato Ci troviamo quindi davanti ad un design circunmaurale confortevole Con altoparlanti dinamici da 53 mm che basculano e possono essere ruotati su se stessi Per facilitarne il trasporto o liberare un orecchio Proprio considerando che le QH700 forniscono un isolamento dai suoni esterni degno di nota Con un peso complessivo di 339 grammi utilizzano un connettore jack da 3.5 mm Presente nella confezione troveremo anche una prolunga di 2 metri Con doppio jack nel caso avessimo una configurazione PC che prevede due ingressi separati per cuffie e microfono Non ci gireremo intorno La qualità del suono di queste cuffie targate Q-pad è eccezionale Nella riproduzione musicale i bassi sono corposi e definiti Si avverte la separazione tra gli strumenti e tutti i suoni risultano chiari e riconoscibili Stesso discorso può essere fatto per quanto riguarda l'utilizzo su console e PC per giochi e film Un'ottima risposta degli effetti sonori e dell'audio ambientale e spaziale Rendono questo headset una scelta perfetta anche e soprattutto in ambito gaming Sul padiglione sinistro troviamo un pulsante per mutare il microfono Ed una rotellina molto sensibile e precisa Che permette il controllo del volume Per il microfono è stata effettuata una scelta diversa dal solito Il microfono è infatti un pezzo separato che può essere collegato al padiglione sinistro delle cuffie Tramite il jack da 3,5 Tra i lati positivi che questa scelta comporta abbiamo particolarmente apprezzato Di non dover necessariamente indossare un microfono qualora non ne avessimo il bisogno Ad esempio per l'ascolto di musica anche in una situazione non domestica O nel caso disponissimo già di una periferica dedicata collegata ai nostri dispositivi Tra i lati negativi tuttavia c'è da considerare la scomodità di avere una periferica separata Che potrebbe essere facilmente smarrita o abbandonata in un cassetto Rendendo macchinoso il suo recupero nel momento in cui vi sia la necessità di utilizzarla Nonostante un'estetica del microfono particolarmente piacevole Ci troviamo a dover puntare il dito verso una qualità particolarmente bassa del suono registrato dal dispositivo Non c'è da farne un dramma rispetto all'eccezionale qualità del headset nel complesso Ma questo è forse l'unico dettaglio sul quale le QH700 cadono rovinosamente In conclusione riteniamo che la promessa di Q-Pad di proporre un dispositivo audio di fascia superiore Sia stata rispettata Nonostante alcune criticità legate al microfono L'headset presenta una qualità del suono invidiabile E una comodità di utilizzo davvero ottima anche durante le lunghe sessioni La qualità dei materiali utilizzati è eccellente E le scelte di design sobri e mai eleganti Contribuiscono a completare un prodotto che vale la pena tenere in considerazione Le QH700 sono disponibili ad un prezzo piuttosto accessibile E il consiglio rimane quello di tenere gli occhi aperti In caso stesse valutando di rinnovare il vostro headset Magari in vista dell'acquisto di una console di nuova generazione Magari in vista dell'acquisto di un'acquisto 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 di un